E se vi scuotiamo è per voi, perché il grasso vi opprime, vi stanca, vi rende lenti, vi affloscia, vi spegne, vi fa morire! Vanno a Marche e a Stefania, vi vogliono vivi, vi vogliono atletici, vi vogliono sani, vi vogliono pieni di vita, pieni di voglia di vivere, pieni di voglia di correre, di saltare, di amare! Di amare in questo secolo, che vi vogliono far smettere, vi vogliono, 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 che vi vogliono far smettere!